buongiorno ragazzi guardate il spettacolo ultima sciata inizia a essere primavera in strada dell'anno siamo qui inizia a rinviare pista giustina andiamo senza racchetta vado un po' più scusate ecco lì giù massimo che ci aspetta raggiungiamo quindi c'è un po' scoperto rallentiamo un po' scoperto possiamo allungare un pochetto eh allunghiamo andiamo per arrivare al muro della giusti ragazzi prepariamoli ecco il muro della giusti andiamo giù pure qui via 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 ok alla moto della polizia in mezzo ai maroni e andiamo giù all'impianto, via, a palla di fuoco